Ciao a tutti ragazzi, sono Enrico12222 ed eccoci qua finalmente con un nuovissimo video e siamo su Company of Heroes 2 Però, prima c'è una piccola premessa da fare, intanto facciamo partire pian pianino il gioco Per farvi vedere cosa combiniamo intanto qui Sono con il signor spremuto, ci siamo accorti tardi che è iniziata la partita, vabbè a parte questo, ok E va bene, in poche parole, quando voi sentirete questo video in giornata 26 giugno alle ore 14 uscirà Io sarò già andato via, sarò in vacanza e ci starò fino al 6 giugno Quindi, ho lasciato per voi 6 video che si caricheranno automaticamente in date da me stabilite che ora vi andrò a elencare Cosicché possiate vedere ugualmente, senza lasciare troppo buco, il canale inattivo per troppo tempo Quindi, il giorno 28 giugno alle ore 14 uscirà un altro episodio su Herz of Iron 3, la campagna con la Germania Quella con l'Irlanda la riprendiamo appena torno Poi, il giorno 29 giugno invece, sempre alle ore 14 uscirà Victoria 2 con il mitico Nikus 8 Forse anche su Oi 3 comparirà il mitico Nikus 8 Poi, il giorno 1 luglio uscirà sempre alle ore 14 un altro grande episodio su Herz of Iron 3 Invece, il giorno 2 luglio, sempre alle ore 14 uscirà un altro episodio su Victoria 2 Infine, il giorno 4 luglio uscirà un altro episodio su Oi 3 E il 5 luglio un altro episodio su Victoria 2, sempre tutto alle ore 14 Va bene, questo è quanto Detto questo, adesso ci dedichiamo a questa partita Allora, inizialmente il signor spremuto è andato sulla destra, mentre io sulla sinistra E dovevamo impossessarci di due stelle Vediamo che i nostri avversari inizieranno una campagna di fortificazioni Abbastanza Abbastanza, diciamo Come possiamo dire? Adesso si fortificheranno davvero bene E vabbè, inizieranno anche con la costruzione di punti benzina Infatti non daremo loro molta pace Io mi dirigo subito qua, questa parte della mappa io la preferisco un po' di meno che ha tutti questi canali aperti Però alla fine sono riuscito a gestirla bene E vabbè, comunque qui noi acchiappiamo un po' di punti E i nostri russi cattivi arrivano da qua Il nostro amico spremuto aveva mandato questo mortaio qui Con l'intento di distruggere questo ponte per rallentare l'avanzata nemica costringendoli a passare da qua Però purtroppo tutta questa gente cattiva è arrivata e si è ritirato da me Io ho mandato la mia bellissima Kubelwagen immediatamente A cercare di fermare questi cattivissimi russi Che sembravano al momento inarrestabili Con i loro fucili, con i loro Mosinagant Così vennero bloccati In modo bloccato E subito dopo i nostri abilissimi soldati Andarono all'attacco per fermarli Comunque intanto vediamo che questi cattivoni qua stanno togliendo Ah vabbè, questi sono i loro punti Stanno catturando Perché si vede tutto strano con sta visuale qui Proviamo a fare anche con sta visuale qui E vabbè, e quindi Vedete che si stanno fortificando Questo coso qui molto cattivo Che quando ci mettono un ingegnere dentro lancio le granate Pum pum pum, vabbè Il nostro spremuto però Da esperto stratega ha piazzato un bunker in questa posizione E il suo mortaio è tornato di nuovo all'attacco Non appena io ho iniziato a prendere il controllo del punto centrale Possedendo già quest'altro Mentre i nostri nemici al momento si dedicavano alla costruzione di punti benzina Ecco, presto con queste truppe lì Ma potremmo... Segui visuale cosa fa? Li segue? Ah, passa da un'unità all'altra lui da solo Vediamo un po' così Questo vi può far vedere tutto da solo quindi Che bravo Ah, segui la visuale che stavo facendo io sulla partita al momento Wow Così potete vedere quello che ho visto io Non ci posso credere Ma quanto roba stanno implementando qui? Vabbè, vabbè, aspetta Smettiamo di seguire questa visuale Ecco, io ho cacciato l'acqua ingegnere E ho iniziato a distruggere qui Piazzando queste altre unità qui Mentre il mortaio del signor spremuto Continuava ad attaccare e ad attaccare e ad attaccare Al centro però le sue unità erano bloccate da questi cattivissimi bunker Erano diventati addirittura due Quindi il nemico si era ben fortificato in posizione Purtroppo qua riceve una brutta sorpresa Numerosi Truppe russe Avanzavano nella mia direzione Quindi sono stato costretto a ritirarmi Dato che erano in possesso di lanciafiamme Ho preso posizione all'interno di questa casa qua giù E poi successivamente invierò un furgone per la costruzione di bunker medico Con la mimetica insanguinata Quanti russi ha investito Così si spaventano E quindi prendiamo posizione qui Qui dietro la macchina Copertura verde E poi dentro la casetta Mentre il signor spremuto qua Fa sempre piccole scaramucce con questi qui Questi qui tengono il dominio qui Ma per diciamo il resto Lui gli è pensato un altro bunker Per farli arrabbiare ancora di più Durante la distruzione del ponte Quindi sono letteralmente bloccati da questo lato E qui ci stiamo impegnando per far sì che avvenga la stessa cosa Infatti loro avanzano brutalmente Ci provano con saccele e con tutto Però vengono attaccati da una cuppelwagen alle spalle Poi questi uomini resisteranno nella casa E questi altri rimarranno qui a difesa Fino a quando tutti i nemici scapperanno Abbiamo ovviamente anche delle MG34 in arrivo Che ci aiuteranno senz'altro Vediamo io dove stavo guardando al momento Stavo guardando i miei uomini Ecco stavano arrivando anche i nostri bellissimi Ingegneri d'assalto Che stanno riparando la nostra simpatica cuppelwagen Ecco io qui stavo guardando se c'era la finestra Per piazzarci una bellissima MG34 Quindi posso vedere anche dove stava guardando Il signor spremuto al momento Stavo guardando qui Intento a minare No questa è la stessa Sempre la mira visuale Vabbè comunque I nemici cattivi stavano iniziando a neutralizzare Pure questo punto Mentre il signor spremuto minava E minava Mentre qua Qua rimane la situazione invariata Vabbè non sono ancora arrivate le nostre grandi unità D'attacco qui In qua in là Le nostre grandi unità di difesa Scusatemi Intente a difenderci Eccole qui piazzate Nel bunker E il mortale del signor spremuto Qui con una sola uccisione però Sta per compiere la sua missione Di abbattere totalmente quel ponte Ecco qui vediamo che Subisce pesanti attacchi Sempre più pesanti Da queste cattive unità Ma queste comunque Adesso andiamo a vedere un po' Cosa succede da me Loro hanno Qui il loro punto benzina Adesso arrivo con una bellissima cuppelwagen Con sopra la sua MG34 Che danneggerà gravemente queste riserve Però I nostri amici russi Stavano preparando Io ovviamente non vedevo Adesso lo so perché mi ricordo Dato che è una partita giocata Il giorno 25 5 minuti prima di Iniziare a farci il video sopra Quindi E' bene E comunque qui stanno attaccando Proprio cattivissimi Guardateli qua quanti sono Ce ne ho pure uno di qua E quindi vedendoli Ti viene da dire Inizialmente è solo questa Si vede Poi vengono fuori gli altri Oh mio dio Via Quindi la nostra MG però Si piazza in tempo E farà strage Di uomini nemici Togliamo la nebbia Che se no da loro come i buoni E noi come i cattivi Vabbè fa sempre così Alleati buoni Se cattivi Vabbè E comunque Guardate qua tutto sto mischione Di russi Sti bloccati qua a terra Con le mani sopra la testa Che vengono pesantemente bloccati Della nostra MG Mentre qui abbiamo costruito Il nostro bellissimo bunker medico E stiamo rinforzando Tutte le unità Come va il signor Spremuto dopo Dure lotte È riuscito a riprendere Il controllo di questo punto E rimane però In mano ai nemici Ancora questa zona Questa zona fastidiosa Con due bunker E altre unità Da me arriva una seconda MG34 Che inizialmente piazzo qui In modo da coprire Meglio L'arrivo delle unità nemiche Inizio Diciamo ad equipaggiare Anche un paio di cannoni Anticarro Per maggiore sicurezza Per avere maggiore sicurezza Vediamo che il mortaio Di spremuto Continua a tirare Ma a sto punto Non vuole proprio Venire giù E qua intanto Il nemico sta piazzato In attesa di un attacco Sfrutterà però Dopo che io Vero chiuso tutta questa zona Sfrutterà un buchino E la prossima E la volta successiva Poi nel buchino Gli faremo una bella sorpresa Il buchino è appunto questo Adesso poi vedremo Come va a finire il tutto Ecco magari adesso Che non sta succedendo niente Tanto che arriva la mia unità Aumentiamo un po' Siamo tutti fermi adesso A parte loro lì Che vogliono attaccare il bunker Ma muoiono Vabbè questo è ovvio Eccoli qua Ecco qua Teniamo indietro Guardate come sono cattivi Così Con una cattiveria folle Loro arrivano da dietro Loro neanche ti sparo in faccia Da dietro Allora Poi la nostra mg si gira I miei uomini sono di qua I miei uomini di là Loro intanto mi sparano Con il mortaio cattivo Cattivo grosso No è quello piccolo Vabbè Io gli tiro granate Su granate Su granate Eppure i nostri Granatieri Genieri d'assalto Quindi queste unità nemiche Vengono trrrrruccidate Ma proprio Per bene Per bene Qui cosa succede Sono riusciti a passare Dietro il bunker Di spremuto E gli stanno dando fuoco Ma finalmente Il punta è ceduto Quindi qua Vanno in fuga Totalmente Le unità nemiche Che non saranno Per noi Più un problema Dato che No Sono riusciti a scappare Purtroppo Non sono morti tutti Come sarebbe Stato divertente Dato che non avrebbero Vi dato problemi Comunque la nostra Kubelwagen È sempre pronta L'attacco E qui c'è addirittura Una terza MG Dietro questo pezzo di roccia O almeno La segnava come copertura verde Anche se non sembra un gran Che forse la segnava di qua Non di là Ai fatti Vabbè Comunque Tanto Le uniche due vie di passaggio Che hanno Sono questa e quella Quindi se riusciamo a tenere qui Non passano Io qua Però Ho comunque tenuto Una seconda linea Per sicurezza Infatti adesso Avremo una brutta sorpresa Qui si stanno armando In tanti In tanti russi Intanto comunque Vediamo che Tre quarti della mappa Sono nostri Quindi dai Una posizione di vantaggio Qui continua la lotta Ai bunker Una lotta davvero difficile Perché in effetti Con questi bunkeroni O carri Perché se ci vai Quando sono in due Così che tirano le granate E se ci vai con l'anticaro Te lo trucidono L'unica è Gli mani tanta tanta gente Che li distraggono Oppure arrivi col carro E spazi via Ecco vediamo che Adesso che quel bunker È stato distrutto Loro avanzano e avanzano Io avevo fatto anche Il mio bellissimo vicino Lei 18 E quindi io Dato che quella mitragliettrice Lì magari era superflua Al momento Dato che ce ne sono già due L'ha sposto qui Per sicurezza In modo da mantenere Il controllo di questo punto I nostri nemici Iniziano a fare Un fastidiosissimo Katiuscia Ecco guardate qua Che si sta armando Il loro esercito Che poi verrà Ad assediarmi In questa posizione Molto probabilmente E comunque Qui vediamo Che continuano le lotte Comunque c'è un altro Bunker di spremuto Che resiste comunque Agli attacchi americani Mentre la loro salda Posizione qui Continueranno a mantenerla Io Ultimamente Io costruisco Ho provato Un paio di volte A costruirlo Dato che era da un po' Che non lo facevo Ma Nel momento in cui Inizio a costruirlo Loro arrivano sempre Ho la sfortuna Devono arrivare In quell'istante Lì Qui Potevo tirare Una bella granata Sopra E ciao Non l'ho fatto Come mai Ah forse Ero impegnato a spostare Le unità Dato l'arrivo Dei Katiuscia Eccola Eccola Boom E scappano tutti Ovviamente Infatti questi Katiuscia Guardate Travolgono la nostra Povera Kubelwagne E decimano Le altre unità E questa addirittura La annientano Quindi la potenza Di quest'arma Di distruzione Vediamo Ecco Spremuto Col suo Panzer IV I carri spazzano Via tutto Boom boom Tra l'altro oggi Abbiamo fatto Quattro partite Di fili In quattro partite Di file È capitata questa mappa qui E abbiamo fatto Sei Ma su quattro è questa Una cosa allucinante Questa mappa Una volta che tra l'altro Aveva la bandiera qua Quindi se uno Prendeva qua Era a posto E se l'hanno messa lì Per bilanciarlo Vabbè Qui Spremuto costruisce Un altro bunker Un altro saggio Questi continuano a tirare Le granatine Ma che vuoi fargli Con le granatine La niente Questi qui Sono un poco Pericolosi Adesso comunque Arriva pure La fanteria Del signor Spremuto Ah comunque A scopo informativo Il nostro clan Gdass Gruppi d'assalto Stainer Sta riprendendo A funzionare Quindi abbiamo Riaperto Chiunque fosse Interessato Basta contattare Ma su steam Enrico12222 Oppure scrivi anche Nei commenti Il nome steam E chiedo io Un'amicizia A me fa solo piacere E vabbè Comunque Qui adesso Hanno riformato In parte Il loro esercito Addirittura Con altri lanciafiamme Quindi sono pronti A sferrare Un nuovo attacco E a demolirci Ancora A demoralizzare Le nostre truppe Con l'uso Di catiuscia Con l'uso Di cattivissimi Catiuscia Eccoli qua Io avevo fatto uscire Dei simpaticissimi Paracadutisti Per tirargli una granata E dirgli ciao Ma loro scappano In avanti Ma muoiono Lo stesso E poi io scappo Ce la faranno I nostri eroi A fuggire Eroe fuggi 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 Ecco qua Che tirano il fumo Tirano il fumo Per poter avanzare Senza problemi E demolire La nostra mitragliatrice Ma io che stavo seguendo Seguiamo la nostra visuale Per vedere Come mi sono allarmato Alla vista di questo fatto Sono rimasto senza parole E per qualche secondo Non ho saputo reagire Poi Fortunatamente Ma c'è il segui la visuale Ero qui fermo Con la visuale Vabbè È la mia visuale O è la loro visuale Ah era la loro Eh Era quella di Sicco Ciacco No Qua qua Ecco la mia Vediamo Spremuto come si muove Sulla mappa Vabbè no Adesso è importante Questa parte qua Scusate Ecco Vediamo che Con il loro catice Spazzano via Quindi ciò che rimane Della mia mg Ma io Ne porto un'altra qua Quella che era qui Che al momento Non serve più Perché c'è il bunker Di spremuto qua Quindi Siamo pronti Due vie principali Sono bloccati Dai nostri cannoni Anticar Eccoli che passano di qui Purtroppo non sono riuscito A cogliere l'attimo Esatto Eccoci qua Dopo la breve interruzione Di un fastidioso telefono Che squilla Riprendiamo la nostra partita L'attacco nemico Da dietro La mia mina Ha distrutto Un paio di unità Che erano già presenti E E questa L'ha decimata Però ci sono Ancora quei cattivoni Però noi abbiamo Il nostro bunker medico E ci rifacciamo Intanto andiamo All'attacco con granate Tanto altro ancora Quelli fuggono Da codardi Mentre questi sei qua Verranno circondati E schiacciati Contro la casa E annientati Con l'utilizzo Dell'STG44 Fino a quando non fuggiranno Il signor spremuto Con i suoi carri armati Dopo aver distrutto Tutti i bunker Ha sfondato Ha preso Il controllo Dell'intera posizione E piazzando MG Anticarri Di tutto e di più Si è fermato qui No l'anticarri è il mio Effettivamente Me l'aveva chiesto In supporto E quindi però Arrivava questo brutto Sherman Un brutto Sherman Cattivo cattivo E noi gli sparavamo Contro Boom Il suo Panzer IV Si era stranamente Buggato e bloccato Qui dentro E il mio anticarro Viene annientato Poi Sfortunatamente Ma lui si sbugga E quindi riesce Ad avanzare Contro il cattivissimo Sherman Il cattivissimo Sherman Che arretra Per paura Di essere distrutto Da quando Spezzando una lapide Di una povera tomba Spromuto torna indietro Va bene Detto questo Quindi qui Adesso piazzerò Altrettanto Minen 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 Qui abbiamo ancora La nostra unità Che resiste Qua invece veniamo Se piazziamo 9 mg Vengono trucidate Finchè la casa Non viene finalmente Abbattuta dal nemico Cosicché non ci saranno Più problemi E tutti vissero Per sempre Felici e contenti Allora ecco qui Il nostro cannoncino Che non ha ancora Ucciso nessuno E vabbè È stato sfortunato Però ha contribuito Alla distruzione Del cattivissimo ponte Adesso poi Avrà modo Di uccidere Un sacco di gente Tra pochissimo Anche Non mi sembra manchi Così poco in realtà Però se lo dice lui Se lo dice lui Forse si arrendono Perché ultimamente Oggi abbiamo incontrato Un sacco di gente Un sacco di codardi Che si arrendono subito Brutta cosa Poverli schiacci Reasi Ciao Vabbè Comunque qui stiamo costruendo La nostra Quartiera generale Dei carri armati pesanti E qui stiamo Piazzando tante belle mine In modo da poter fare Un pantero Qualche altro Carro bello bello Per distruggere il nemico Nemico cattivo cattivo Qui vediamo che stanno Mettendo Stanno radunando gli uomini Per un'altra carica Suicida Urra E ma la nostra MG34 È pronta al fuoco Anche se sopraffatta Dall'ingente Numero di unità nemiche Che daranno fuoco Ai suoi poveri membri Intanto questa unità Ritornata qui Si metterà in posizione In questo punto Per cercare di sventrare L'attacco nemico Ecco vediamo il nostro Sfortunato obice Che tenta di colpire Sotto mio ordine Preciso di attacco Le unità nemiche Bloccate in questa posizione E finalmente Riesce nel suo intento Realizzare Ben tre uccisioni Tanto il fronte Dispramuto È piuttosto calmo Mentre il suo Nemico Americano Siu Chain Sta preparando Una nuova E grande Offensiva Il russo Avanza Con tutte le altre Sue unità Rimaste E viene Quindi Attaccato Dopo la seconda Fastidiosa Interruzione Della giornata Eccoci qua I call center Sono molto Fastidiosi Vabbè Comunque Il nostro cannone Quindi sta continuando A bersagliare Pesantemente Le nemiche Unità Senza avere Però una bellissima Mira Comunque Il nemico Il nemico Qua avanza Ma ha spremuto Mina 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 Anche io Qua Mino 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 Per farli Proprio morire Tutti Nel caso In cui Tentino Un ulteriore Attacco Con la loro Ira Sono riusciti A catturare La mia MG E unendola Ad altre squadre Hanno creato Un battaglione Della morte Composto Da ben Sei Unità Purtroppo Per colpa Di quella Casa Cattiva Non riesco A colpirle E allora Faccio uscire Dei Fagilmieger Da questa Bellissima Casa Che mettono In fuga Tutte le Unità Del nemico E poi Si impossessano Di questa Abitazione Sparando Dalla finestra Chiunque osi Avvicinarsi Al nostro Presidio E quindi Dopo 20 minuti Di partita Il nemico Si arrende Detto questo Finalmente Dopo queste brutte Interruzioni Siamo riusciti A finire Questo video Io Vi ringrazio Per averlo guardato Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Magari iscrivetevi E ricordatevi Della programmazione Che ho detto Se volete La ripeto 28 alle 14 O i 3 29 alle 14 Victoria 2 L'1 Luglio Alle 14 O i 3 Il 2 Luglio Alle 14 Victoria 2 4 Luglio Alle 14 O i 3 E 5 Luglio Alle 14 Victoria 2 Da questo vi saluto Ciao a tutti Ad un prossimo video Ciao a tutti